ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo webinar sono mariana santoni benvenuti ci aspetta un'ora insieme siete tantissimi ci sono più di 800 iscritti oggi quindi veramente una valanga di gente siamo qui grazie a questo webinar che è promosso e offerto da x right e canson che sono due brand standard a livello internazionale per la qualità della riproduzione dei colori x right è anche famosa per essere x right pantone e canson che è una delle cartiere più antiche del mondo con degli standard qualitativi di produzione della carta altissimi il webinar di oggi ho deciso di affrontare nel webinar di oggi ho deciso di affrontare appunto il tema della fotografia fine art che va tanto di moda ma in merito al quale ci sono anche tantissimi tantissimi dubbi ora vediamo cosa andiamo a parlare allora argomenti di oggi sarà una panoramica generale sul mondo del fine art vedremo che cos'è la fine art a chi si rivolge spesso c'è confusione su questo vi spiegherò vi darò la mia idea del perché vale la pena avvicinarsi al fine art quale opportunità riserva in qualche modo per chiunque ami la fotografia e parlo sia dal punto di vista come fotografo e sia come come cliente di acquistatore di foto quindi è una grande opportunità per tutti parlerò di qual è il flusso di lavoro nel mondo di una fotografia autoriale qual è il flusso di lavoro per ottenere una stampa fine art qui scenderemo un po più sul tecnico e infine quali sono le attrezzature le tecnologie e i materiali da utilizzare alla fine del webinar ci sarà anche spazio per alcune domande e avremo modo di insomma se vi vengono dei dubbi mano a mano potete annotarli oppure scriverli nella chat che avete a disposizione così ne possiamo parlare e c'è anche una sorpresa alla fine quindi vi prego non andate via volevo anche approfittare del webinar perché moltissime persone in questo periodo mi hanno chiesto come mai sul sito non ci sono le date dei corsi quindi lo dico ufficialmente a tutti così non devo scrivere a tutti in questo periodo ho preso tantissimi incarichi all'estero e quindi sarà possibile accedere a vedere le nuove date tra poco semplicemente un ritardo tecnico dovuto ai tanti impegni con tantesime aziende a livello europeo tutto qua ora passo la parola a alexandra che mi presenterà e poi ritorna la parola a me lei parlerà in inglese però la slide in italiano quindi ce la possiamo fare hello everybody my name is alex right thank you mariana i just like to say a few words about mariana presenter today she's an absolute authority in the creation and management of digital images she's an internationally recognized by the main brand in this sector like adobe canon canson iso elinchrom epson fujifilm hp leica nikon wacom and of course x right and pantone she's also a university professor and author of over 70 publications among them the first world guide about lightroom commissioned by adobe many internationally renowned photographers follow and support her training courses with students from over 16 countries and without further ado i will let mariana commence this webinar we hope to see you again soon and enjoy thank you grazie 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 mille ok abbiamo finito con le formalità e adesso iniziamo con i contenuti allora il mio primo vero wow fotografico allora parliamo di il 2001 mi trovavo in america a new york ero al momma di new york e di fronte all'opera proprio che state vedendo in questo momento che è una foto grandiosa di saliman ho avuto una sorta di epifani per chi ha letto james joyce una sorta di illuminazione mi ha colpito molto il fatto che la mia prima vera illuminazione fotografica è avvenuta davanti a un'opera stampata benché avessi già sfogliato migliaia di libri e avessi anche visto tantissime foto online tantissime sia di questa notizia sia di altri e quindi questo mi fa riflettere molto su quanto sia importante stampare e perché quel momento per me ha cambiato per sempre l'idea che avevo della fotografia e di quello che la fotografia poteva rappresentare per me quindi è stato un momento importante volevo condividerlo con voi un'altra riflessione sulla fotografia in generale è che tutti i grandi autori da sempre hanno riposto un grandissimo un grandissimo significato nella stampa sempre ansel adams e non solo quindi in qualche modo possiamo dire che fino a poco tempo fa fino a prima del digitale possiamo dire anche che stampare una foto era quasi l'unico modo per fruire un negativo ovvio ma non è solo questo c'è anche ovviamente molto molto di più pensiamo a google vincent surf che è il vicepresidente di google ha dichiarato nel 2015 che addirittura google insomma stiamo parlando di google che il rischio di perdere i dati digitali è altissimo e ha detto se tenete una foto stampatela considerate che vincent surf è considerato è in carica da dieci anni in google con la carica di chief international evangelist quindi evangelista capo di internet e se una persona così arriva a dire questo vuol dire che c'è qualche problema in più da porsi allora tra un file e una foto stampata qual è la differenza allora secondo me c'è un po ancora la differenza che esiste tra un negativo e la stampa il digitale un po ce l'ha fatto dimenticare questa cosa ma per me questa differenza esiste ancora e io penso spesso a una stampa come un po la differenza che c'è tra leggere una ricetta e gustare un piatto per me guardare un file digitale è un po leggere una ricetta di un piatto da cucinare mentre quando guardo una stampa ho veramente sotto gli occhi qualcosa che posso gustare ed esperire nella mia vita reale vi ho messo anche delle foto meravigliose di roberto polillo affiancate ad uno spartito perché un'altra metafora che trovo sempre molto vicina a me è quella che ancora una volta è un po come se il file fosse lo spartito e la stampa fosse l'esecuzione di quello spartito qualche purista mi permetterà che ho messo autori jazz che di spartite ne fanno un gran po con uso ma insomma era una licenza poetica volevo far vedere qualche foto meravigliosa di roberto polillo ora quindi andiamo a vedere perché bisogna stampare allora le tecnologie sempre più spesso tante persone stanno stampando e anche sempre meglio a qualità sempre maggiore quindi poniamoci delle domande allora intanto la tecnologia è grandiosa ma potenzialmente è inaffidabile non solo perché lo dice Vincent Cerf ma anche perché è in qualche modo sappiamo benissimo che il rischio che occorrono i nostri hard disk i nostri file in termini di criticità dei supporti hard disk che si rompono virus cancellazioni accidentali e anche l'obsolescenza tecnologica in qualche modo no del di tutto ciò che è quindi una stampa di qualità può darci garanzie molto più forti sulla durata di una stampa di un di una immagine inoltre la stampa secondo me rende la foto un oggetto che vive con noi abita i nostri spazi tra l'altro spesso collochiamo una stampa proprio nei luoghi per noi più preziosi più importanti quindi trasforma completamente l'esperienza della visualizzazione infine non è infine il penultimo punto ma considero importantissimo il fatto che guardare una foto che ami non sarà mai tempo sprecato io non ho mai considerato mai ascoltato una sola persona in tutta la mia vita dire ieri sera abbiamo tirato fuori le vecchie foto ci siamo messi sul divano le abbiamo guardate è stata veramente tempo buttato non l'ho mai sentito in tutta la mia vita una cosa del genere quindi è evidente che ci trasmette qualcosa di più che stare davanti al computer non solo ieri parlavo con roberto bernet che hanno stampatore bravissimo e mi diceva mi accorgo anche che quando una foto la stampo mi capita tra le mani per caso e mi risveglia delle emozioni fortissime no questo senso di casualità mentre un file digitale mi accorgo che se lo voglio guardare è sempre frutto di una ricerca intenzionale quindi questa cosa va a cambiare completamente l'esperienza che tu fai nei confronti della fruizione di una foto infine ultimo punto è solo la stampa a togliere ogni equivoco sull'opera questa è una certezza fino a che un file digitale ogni monitor lo visualizzerà in un modo diverso non solo una carta piuttosto che un'altra può cambiare moltissimo il significato di un'opera quindi una foto si può dire compiuta solo quando finisce stampata questo riguarda il concetto generale di stampa degli immagini e non riguarda solo il fine art ovviamente si è ben capito immagino da questa slide ora quando una stampa può definirsi davvero fine art quando allora il fine art in realtà sembra essere un po ovunque e negli ultimi anni si è diffuso un po come moda usare questo termine a volte devo dire anche abbastanza sproposito e quindi voglio provare a fare un po di chiarezza su questo per dare anche onore a chi se ne occupa e la fa seriamente allora nei social spopolano i fine art photographer ci sono sempre più stampatori che offrono servizi fine art ma non tutti lo sono davvero attenzione ci sono addirittura mi vengono i brividi filtri di light di foto che promettono un effetto fine art roba da brivido veramente e infine videocorsi tutorial blog di ogni genere che inseriscono la parola fine art un po ovunque per fare presa sulla gente ora si sta creando una confusione pazzesca su che cosa significhi fine art e quindi voglio sfruttare questa opportunità di oggi per chiarire questi aspetti i dubbi che stanno piovendo in ogni direzione credo che siano innanzitutto fonte di del fatto che spesso si cercano le informazioni sul web e spesso le informazioni sul web purtroppo vengono da fonti inaffidabili questo crea ancora più confusione quindi questo webinar è nato proprio per cercare di indirizzare tutti verso un utilizzo appropriato della parola fine art e aspettabilmente anche del fine art stesso faccio una permessa vi chiedo scusa se parlo molto veloce so che poi potete riascoltarmi tutte le volte che volete perché lo stiamo registrando volevo però assicurarmi che potessi darvi tutti i contenuti di cui avete bisogno e questa è la ragione per cui parlo velocemente di solito alle lezioni vado un po più calma ora parliamo del mondo fine art fine art significa in realtà belle arti è questo il significato della parola e quindi se fine art significa belle arti la definizione più giusta di belle arti sarebbe quella di definire ogni forma d'arte visiva figurativa scenica teatrale che viene sviluppata per scopi estetici e anche di significato aggiungerei che sono distinti da quelli dell'utilità in qualche modo quindi non c'è un utilizzo vero pratico di una foto concepita per il fine art di un'arte concepita per le belle arti ora il mondo delle belle arti storicamente storicamente ci va a richiamare gli ambiti della letteratura del cinema della scultura fotografia danza tutto questo mondo qua e se pensiamo a tutte le discipline che compongono il fine art pensiamo che sono tutte il risultato fondamentale di tre componenti rinunciabili da un lato c'è la visione artistica dell'autore dall'altro c'è la componente tecnica quindi delle abilità tecniche molto specifiche in questo caso stiamo guardando il canova vuol dire non uno a caso e poi una componente artigianale quindi si tratta sempre di creazioni tangibili non hanno a che vedere con i pixel hanno a che vedere con il mondo reale qualcosa che puoi vivere che puoi toccare se ora pensiamo alla fotografia fine art ci troviamo nella stessa identica barca anche in questo caso quando pensiamo a fotografia fine art i tre componenti irrinunciabili sono gli stessi identici quindi una visione artistica delle competenze tecniche specifiche evolute e una componente artigianale nella foto vedete me e jane dixon di canzon nell'ultima edizione del fotografico ok ora il mondo della fotografia fine art per eccellenza va a toccare in modo esplicito quel mondo che fruisce la fotografia attraverso musei mostre gallerie collezionisti festival quindi è un mondo a tutti gli effetti di belle arti artistico nel vero senso della parola però fermiamoci un attimo a capire che cosa significa questa cosa se ci pensiamo questi ambiti che esigenze hanno hanno l'esigenza di avere una componente sicuramente fortemente artistica dell'opera imprescindibile abbiamo all'esigenza di avere un'alta resa dell'immagine ovviamente perché non si può permettere di stampare un capolavoro sulla carta del pane e allo stesso tempo ha esigenze di affidabilità e durata nel tempo sappiamo benissimo quanto per un collezionista sia importante che un'opera rimanga lì nel tempo perché parliamo di grandi investimenti poi lasciamo stare poi quello che è successo a Bansky ultimamente che ha tritato il suo capolavoro durante la vendita all'asta vabbè ma tutto questo ha solo aumentato il prezzo di quell'opera a fare quindi però al di là di questo scherzo che si può permettere solo lui o pochi altri insomma la durata nel tempo è qualcosa di fondamentale per chi investe migliaia centinaia di migliaia milioni di euro in un'opera d'arte ora riflettiamo un attimo meglio su queste tre esigenze quindi componente artistica, resa dell'immagine e durata nel tempo pensiamo al mondo della fotografia in generale pensiamo a... ho messo solo dei generi, non me ne vogliate ho messo un numero limitato di generi ma avrei potuto metterli tutti dal mio punto di vista quindi pensiamo ai ritatti, ai matrimoni, al fotogiornalismo, fotografia naturalistica, riproduzione dei beni culturali ovviamente tanti ambiti diversi siamo davvero sicuri che la fotografia in generale e non solo la fotografia per le belle arti non abbia le stesse medesime esigenze siamo davvero sicuri io non penso di conoscere nessun fotografo che non possa in qualche modo desiderare di esprimere qualcosa con un'immagine e che desideri che l'immagine venga... abbia un'alta resa quando la stampa e anche che possibilmente duri nel tempo la stampa fine art quindi in realtà oggi diventa sinonimo di garanzia di massima qualità e durata serve fondamentalmente a questo nella foto vedete me all'ultimo fotochina per canzone appunto quindi la stampa fine art è qualcosa che riguarda l'eccellenza il massimo che si possa ottenere in termini di stampa cosa causa la vulnerabilità nelle nostre stampe? diversi fattori innanzitutto l'esposizione alla luce l'esposizione alla luce implica che l'attacco degli UV alla carta stampata possano causare un cambio del colore molto forte un sviadimento anche l'accelerazione di alcuni processi chimici che vanno a deteriorare e a sviluppare muffe e altri fattori l'umidità l'inquinamento dell'aria e la manipolazione non corretta ora l'esposizione alla luce l'abbiamo detto si può limitare ovviamente mettendo dei vetri specifici ma comunque è un agente esterno molto 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 forte l'umidità non ne parliamo l'inquinamento all'aria è ovvio la manipolazione non corretta mi riferisco al fatto che toccando le stampe con le mani chiaramente si va ad aggiungere un componente esterno che è l'acidità della pelle alla pasta di cui è fatta in qualche modo la foto e aggiungendo questo componente si può facilitare lo sviluppo di reazioni chimiche che possono deteriorare l'immagine ora per quale ragione le stampe normali si rovinano e quelle fine art no ora ci sono diverse ragioni la prima è che le carte fine art le stampe fine art rispondono a dei requisiti che sono l'ISO 9706 il PAT sono proprio degli standard internazionali ce ne sono anche altri dopo ne parleremo e quindi in qualche modo sono costruite a regola d'arte per fare in modo che rispondano a tutti gli effetti a tutte quelle esigenze che limitano al minimo l'attacco degli agenti esterni vengono di solito e dovrebbero essere sempre manipolate con cura un po' di persone hanno sorriso che nella foto di presentazione di questo webinar ci fosse la foto con me con i guanti mentre toccavo le stampe non era affatto per fare scena perché dovevo così sembrare più cool del solito e quindi mi mettevo i guanti semplicemente le stampe fine art si maneggiano così in Italia ci siamo poco abituati ma vi assicuro che se girate il resto del mondo e questa radice lunga sul rispetto che altre parti del mondo hanno per la fotografia è la cosa più normale io ho visto letture portfolio dove l'ultimo degli ultimi dei foto amatori arrivava presentava le sue stampe non fine art e la persona che faceva la lettura portfolio si metteva i guanti secondo me è anche una forma di rispetto e vi assicuro che se noi per primi rispettiamo le foto le nostre foto lo faranno di più anche i nostri clienti secondo me infine terzo punto importante il modo in cui viene presentata e conservata l'opera cosa intendo dire la presentazione puoi fare un capolavoro puoi stamparlo in fine art nel modo più tecnico e assolutamente ineccepibile ma poi magari la monti su forex non funziona non solo usi il vetro sbagliato che magari può rovinare il lavoro sia da un punto di vista estetico sia da un punto di vista di conservazione inoltre quindi questo per quanto concerne la presentazione per quanto concerne invece la conservazione c'è un discorso legato proprio al fatto che le stampe vanno riposte possibilmente in scatole conservative non hanno assolutamente dei prezzi proibitivi li trovate tranquillamente nel sito Canzon poi magari dopo vi do i link non hanno prezzi assolutamente proibitivi durano per sempre appunto perché sono scatole conservative vi fanno fanno un figurone se dovete mostrare le foto a qualcuno o comunque portarle con voi trasportarle fisicamente per una lettura portfolio per portarle alla mostra o per qualunque cosa quindi per portarle a chi poi le farà il finissaggio che è una fase di cui ne parleremo quindi in poche parole la presentazione e la conservazione sono altrettanto importanti non sono aspetti che possono essere trascurati e tutti questi elementi messi insieme fanno sì che le stampe normali si rovinano e le stampe fine art no ora quando si parla di tempo è sempre sembra una cosa un po' astratta no a sinistra vedete la foto originale a destra vedete il probabile destino di una stampa non fine art in meno di 5 anni meno di 5 anni lo sottolineo perché spesso c'è una fiducia un po' così immotivata nel fatto che una stampa qualsiasi possa durare nel tempo e che magari siano manie da nerd o da super tecnici strambi il fatto di fare una stampa un po' più ricercata non penso che sia successo solo a me di ritrovarmi foto in queste condizioni e non penso di essere l'unica persona al mondo che abbia perso dei file con dispiacere ovviamente per quanto puoi proteggerti da tutti i backup che vuoi qualcosa può sempre accadere quindi una raccomandazione è non pensate che sia qualcosa che riguarda gli altri è il modo più più sciocco e superficiale di affrontare qualsiasi cosa nella vita secondo me pensare che riguardi solo gli altri quindi perché ha senso avvicinarsi alla stampa fine art parliamo un attimo meglio ora ci sono tante informazioni in questa slide ma cercherò di sviscerarle una per volta partiamo da sinistra allora conservare la stampa fine art diciamo è tale se si conserva per un minimo di 60 70 anni ma in realtà in molti casi supera i 100 i 150 anni arriva addirittura a 200 quindi insomma a durare molto molto evolute vi permette secondo punto di evitare completamente i problemi di stampa quindi significa che tutti i problemi legati se è eseguita correttamente ovviamente dall'inizio alla fine del flusso di lavoro ovviamente se tutto è rispettato come si deve i colori di prodotti sono perfetti non c'è il problema del bending poi ve lo mostrerò sono quelle fasce di colore che appaiono nel file e che in qualche modo nell'immagine che la asciucano quando i cieli per esempio con una sfumatura avvengono tutti quei tratteggi anziché vedere una sfumatura continua posterizzazioni le posterizzazioni avvengono quando l'immagine si schiaccia quindi invece di vedere i dettagli per esempio una rosa invece di vedere tutti i dettagli che compongono un petalo si vede come un solo la silhouette del bordo del petalo e in mezzo è tutto rosso schiacciato senza capire di che materia si è fatto aberrazioni di vario genere l'asciugatore errata a volte alcuni stampatori non fine art asciugano male le foto e quindi si creano ondulazioni sbavatori di colore un sacco di problemi e infine non da ultimo la ripetibilità della stampa scusatemi la ripetibilità della stampa significa che eravamo nel secondo punto significa che se un cliente ti viene a chiedere una stampa a distanza di tempo due anni cinque anni dieci anni poi restituirgli una stampa identica alla prima in passato questa cosa non si poteva fare perché bisognava praticamente quando si stampava un lotto una serie di immagini numerate bisognava farle tutte in una volta cinque dieci cento dipende vada il tiraggio dalla tiratura scusate bisognava farle tutte insieme perché altrimenti poteva variare nella stampa chimica le variabili sono tantissime la temperatura l'umidità i tempi utilizzati l'utilizzo degli acidi ci sono delle varianti veramente sfuggenti quindi bisognava farle tutti insieme oggi invece anche una tiratura di cinquecento mille immagini non è più considerabile una tiratura insomma si può fare on demand su richiesta in pratica e quindi anche questo chiaramente facilita le problematiche legate all'archiviazione alla durata ai costi tanti aspetti terza colonna vi permette di nobilitare al massimo e veramente al massimo l'opera che avete realizzato quindi significa che nella stampa fine art non solo si può dire che c'è un un tatto un feeling proprio una sensazione nel guardare l'opera incredibilmente museale ma significa anche che quando si guarda si ha veramente la sensazione di guardare qualcosa che potrebbe stare al MoMA di New York si ha la sensazione di qualcosa di estremamente prezioso non è qualcosa fuori dal comune anche l'ultimo dei clienti può rendersene conto da un senso di incredibile maestosità preziosità è impossibile ottenere una stampa del genere per un cliente andando in un centro commerciale questo mi facilita nello spiegare il quarto punto che è il prestigio e il posizionamento il fine art permette ad un fotografo e in questo caso parlo da un potenza commerciale di ampliare i propri mercati ampliare i propri servizi aumenta il valore della foto stampata perché un conto dare un cd una chiavetta e un conto dare una foto stampata il cliente la percepisce in un modo diverso delinea un target un confine di target un fotografo in grado di offrire un servizio anche fine art una stampa fine art che allestino aggiunge anche quell'opzione o solo quell'opzione sta in qualche modo rivolgendosi a una clientela di fascia più alta e può farlo perché ha delle competenze che gli permettono di farlo permette di fidelizzare il cliente perché ovviamente se solo tu puoi dargli un tipo di stampa che non può trovare in giro a chi si rivolgerà infine è una stampa incomparabile appunto abbiamo detto rispetto a quella che il cliente può procurarsi da solo quindi può essere semplicemente anche un'occasione per ricontattarlo il cliente per rivederlo perché magari torna per fare una certa stampa che da solo non riesce a ottenere e è l'occasione magari per proporgli dei servizi o fargli vedere l'ultima mostra che avete fatto in qualche modo aiuta a sviluppare consapevolezza sul vostro valore infine ultima colonna si tratta di in poche parole per riassumere tutte le colonne precedenti di una qualità a regola d'arte è la stampa di maggiore prestigio in assoluto che si possa ottenere indipendentemente che sia ottenuta in digitale o in analogico perché ovviamente quando parliamo di stampa fine art in realtà ci si riferisce anche a una stampa che può essere non solo digitale ma anche fatta in camera oscura però il termine fine art che sia fatta in camera oscura o che sia fatta in digitale comunque indica sempre la stampa di maggiore prestigio che si possa ottenere in assoluto quali contro ha la stampa fine art parliamone perché è inutile che tanto ci nascutiamo dietro un dito ci sono dei contro vediamoli allora innanzitutto il prezzo ve l'ho messo nella prima colonna è ovviamente la stampa di maggior prestigio e quindi ovviamente anche quella più costosa è normale che costi di più però mi piace sempre sottolineare che chi sa riconoscere la differenza non ha problemi a pagarla non ha assolutamente problemi a pagarla se non sa riconoscerla probabilmente è il cliente sbagliato o magari c'è qualcosa che non va in come noi lavoriamo o in come noi proponiamo il nostro lavoro però qualcosa non sta funzionando nella comunicazione secondo me e nel valore intrinseco anche dell'opera seconda colonna richiede maggiori competenze è un contro sì mi dispiace richiede maggiori competenze perché dallo scatto alla post produzione alla stampa il fine art non si può affrontare come si affrontano magari tanti lavori un po' più così alla leggera implica delle consapevolezze delle quali però tra poco vi darò sulle quali vi darò dei chiarimenti tra poco quindi non vi lascio proprio completamente nel panico richiede spessore ovviamente un'idea un modo di sentire una prospettiva un punto di vista è imprescindibile da quello che possa essere considerato vero fine art ciò non toglie ovviamente raggiungo che se una persona ha una foto che adora della propria figlia è fatta al mare è una foto alla quale è affezionatissimo perché no non può fare una foto fine art certo non necessariamente è considerabile un'opera d'arte da tutti ma sicuramente lo è considerabile dove per lui un'opera d'arte quella foto e quindi può comunque anche senza un approccio artistico avvicinarsi a questo tipo di stampa perché vuole comunque una stampa di qualità è legittimo questo quarta colonna va sabuta presentare è una competenza lo considero un contro perché per molti lo è mi dicono spesso non riesco a far capire al cliente la differenza che c'è nel fine art io penso che chi non riesce a spiegarla a un cliente spesso probabilmente che non l'abbia chiara anche per se stesso questo valore allora magari spero che con questo webinar riusciamo a fare un po' a gruppo e a avere un coro più all'unisono quando parliamo con i clienti e anche nel spiegare il valore di quello che andiamo a offrire quindi altri aspetti sulla presentazione riguardano il finissaggio quindi il vetro che viene scelto la cornice i materiali siti in coni colle l'uno non vale l'altro insomma non sono tutti uguali le garanzie quindi ci sono delle garanzie ne parliamo tra poco dei certificati un'opera può essere anche numerata addirittura se soprattutto se è una tiratura d'arte sicuramente vanno usati i guanti vanno usate scatole di conservazione quindi in qualche modo come si vede da questa slide chiaramente va alzato un po' il tiro da tutti i punti di vista quindi prezzo competenze spessore nella ricerca dello scatto e proprio aspetti pratici che riguardano il fine art ora il fine art è per tutti quindi no non è per tutti è inutile che vi dica che è per tutti il fine art è adatto solo a chi vuole di più e a chi è in grado di riconoscere questa differenza gli altri per gli altri ci sono le stampe dozzinali che si possono trovare ovunque se non capisci la differenza è bene che tu non spenda per quella differenza però mi viene da ricordarvi questa cosa molto bella che ho sentito dire a Giovanni Castel un paio d'anni fa al Maxi stava facendo un evento molto bello con Gemelli altro straordinario fotografo e lui disse il fotografo il fotografo che pensa di essere chiamato a chiudere un diaframma o a spostare una luce sarà sempre stra pieno di concorrenti e invito tutti a riflettere su questo perché molto spesso sento dire eh ma il mio cliente guarda il prezzo guarda il prezzo forse se guarda solo il prezzo forse anche noi stiamo guardando solo il prezzo forse anche noi scegliamo materiali di serie B forse anche noi non alziamo le nostre competenze abbiamo competenze di serie B forse anche noi pensiamo che formarsi su YouTube risolva i problemi quando ovviamente non può essere così quindi è un approccio di serie A o un approccio di serie B un po' in tutto parliamo del flusso di lavoro ora è una parte un po' più tecnica flusso di lavoro fotografico diffuso non fine art quello che vi sto mostrando adesso non è fine art il titolo in alto è la fotografia fine art ma solo perché è l'argomento di cui sto parlando allora attrezzature molte persone investono un sacco di soldi in attrezzature ma raramente ne sanno sfruttare appieno il potenziale quasi mai ci capita tutti i giorni in studio quasi tutti i giorni ci capita una telefonata di qualcuno che dice guarda che io ho visto foto scattate con attrezzature peggiori delle mie in condizioni eppure sono migliori ma perché che cosa c'è che mi sta sfuggendo tante cose quando moltissime cose non ne posso parlare adesso ma insomma veramente moltissime quindi posso affermare con assoluta certezza che vedo sfruttare il 99% delle attrezzature sul mercato a volte anche a meno del 40% delle reali potenzialità quindi questo intanto è il danno più grande si investe un sacco di soldi in attrezzatura ma in realtà non si impiega poi il tempo necessario per formarsi su quell'attrezzatore poi lo scatto si scatta raramente con una progettualità alle spalle quindi si va si scatta ci piace un po' di pancia non c'è nulla di sbagliato ma in realtà un approccio autoriale è un approccio proprio di valore fotografico è un po' diverso non vuol dire che non ci può essere lo scatto rubato ci mancherebbe alto il fotografo sulla scena deve avere tutti i sensori accessi per poter non perdere nulla ma se sicuramente ha fatto un'analisi prima il lavoro sarà diverso ma anche portato sul matrimonio non è che dobbiamo pensare chissà cosa o la foto di un bambino per esempio cioè il fatto di capire se magari una famiglia ha un approccio più elegante o più giocoso alla vita piuttosto che una persona una famiglia più espansiva oppure più riservata ci permettono sicuramente di pensare al nostro lavoro in un modo completamente diverso quando poi andiamo a realizzare gli scatti veri e propri quindi la progettualità è qualcosa che può riguardare il super piccolo come il molto grande la selezione spesso la selezione delle immagini è una cosa che i fotografi o adeno si limitano a scegliere le foto migliori spesso occupano un sacco di tempo a farla ma non perché la facciano bene ma semplicemente perché usano le tecniche sbagliate per farla e quindi una valanga di tempo sprecato a selezionare foto limitando se scegliere le migliori l'approccio dovrebbe essere un po' diverso post produzione non va dolente mamma mia spesso sommaria spesso usata solo per correggere i difetti che non è per quello che è nata la post produzione la post produzione è la camera oscura per i fotografi quindi serve a valorizzare al meglio un'immagine a dargli piena potenza esprimere al massimo il potenziale non serve assolutamente né a capovolgerla e stravolgerla né tantomeno a correggere i difetti ovvio può capitare ma non dovrebbe essere il nostro obiettivo tra l'altro molto spesso è limitata solo a Lightroom non ho nulla incontro che con Lightroom è un software straordinario lo conosco da sempre ho scritto la prima guida al mondo commissionata da Adobe su Lightroom quindi lo adoro i miei corsi su Lightroom sono arrivati hanno superato la centocinquantesima edizione quindi adoro questo software ma non è tutto lì cioè a volte per fare un salto di qualità serve necessariamente passare anche a Photoshop quindi riflettiamoci su questo non per tutte le immagini ma per alcune con il web i social network quindi le foto vengono mandate dal fotografo ai propri social network oppure nei social network del cliente poi infine la stampa spesso con una bassa attenzione ai materiali utilizzati la domanda che più spesso sento porsi è semplicemente carta lucida o carta paga stop come se fosse l'unica domanda da porsi in stampa ma c'è molto altro e quindi voglio affrontare questa cosa in un modo diverso vediamo se ce la facciamo di solito nel flusso di lavoro diffuso non fine art tutti gli sforzi sono quindi molto coinvolti coinvogliati verso grandi investimenti di tempo e di soldi in attrezzature e post produzione con approcci sbagliati e c'è anche un altro problema in questo flusso di lavoro viene completamente ignorata una linea sottile ma importantissima che collega tutto il flusso di lavoro e che deve collegarlo che è la gestione del colore spesso è completamente trascurata o addirittura proprio dimenticata del tutto è fondamentale ma questo è fondamentale anche per chi non fa fine art è fondamentale per chiunque abbia a che fare con un'immagine digitale per chiunque non riguarda solo il fine art tra poco ne parleremo un momento se non ci occupiamo della gestione del colore è assolutamente inutile tutto il resto che andiamo a fare si vaporizza tutto spero che l'immagine del fuoco e della fiamma esprima a sufficienza quanto grave sia non prendersi cura della gestione del colore ora parliamo di un flusso di lavoro diverso fotografico autoriale un approccio diverso se vedete i colori del puzzle in questo caso sono due non sono mille perché tutta la filiera è profondamente collegata in ogni singolo tassello quindi tutto parte da una visione artistica quindi un modo personale di vedere di affrontare un certo tema un'elaborazione unica di un'idea poi c'è la produzione e la preparazione quindi parlo sia della preparazione pratica tipo il biglietto aereo il viaggio la modella il truccatore la location sia proprio tutto quello che occorre per documentarsi se si tratta di fotogiornalismo quindi andare a studiare tutto quello che è la preparazione e la produzione ha la realizzazione di un servizio fotografico poi c'è lo scatto che viene seguito con accuratezza con conoscenza profonda delle proprie attrezzature c'è la selezione che è durissima e non va a selezionare solo le foto migliori ma va a scegliere un corpo di immagini che funzionino bene insieme che compongano una storia un progetto qualcosa di molto più raffinato spesso il paradosso è che la foto più bella non riusciamo a metterla nella storia è una frustrazione che chiunque abbia realizzato progetti fotografici nella prossima vita ha provato questa frustrazione purtroppo spesso si selezionano le immagini e la foto nostra preferita non funziona non regge scompone in qualche modo l'intera storia e dobbiamo toglierla quindi è un approccio completamente diverso poi c'è la post produzione quindi una post produzione accurata consapevole che sa quale strumento devo utilizzare per ottenere quale risultato una post produzione che sa motivare perché è stata scelta uno strumento piuttosto che un altro quindi sapere cosa fare con quale strumento e soprattutto perché farlo è un approccio molto diverso poi un confronto importantissimo un confronto che può avvenire con un mentore un docente un curatore di una mostra uno stampatore stesso che spesso è un confidente un angelo custode per uno stampatore è una fase molto importante in cui l'artista l'autore si va a confrontare con il mondo esterno e cerca di capire se veramente quello che aveva in mente è stato raggiunto con le opere che ha scattato o è soltanto un film nella sua mente questa risalita è anche la fase in cui si va a preparare l'artist statement si chiama così è un po' la dichiarazione dell'artista circa il progetto che ha realizzato un argomento ampio di cui parlare ovviamente il confronto di solito non avviene solo alla fine avviene anche durante avviene in fase di selezione il confronto non necessariamente dovete avere un gallerista tra le mani a volte le mogli o i mariti sono degli ottimi supporti quando si ha bisogno di un confronto una voce onesta che ci dica questo non mi convince qui hai barato questa è strepitosa dovresti lavorare più in questa direzione sappiamo benissimo quanto le persone che ci sono vicine spesso anche non addette ai lavori colgono degli elementi che per qualche ragione ci sono sfuggiti fino a quel momento poi c'è la prestampa questa fase l'ho collocata in un altro modo perché di questa parte si può occupare anche solo lo stampatore vero e proprio ma non è detto se il fotogra fa le competenze per occuparsene se ne può tranquillamente occupare fino alla fine la prestampa è la preparazione degli esecutivi alla stampa dei file alla stampa in base ai diversi canali di utilizzo quindi la preparazione degli esecutivi non si fa solo per la stampa ma si fa per diversi tipologi di stampe diverse tipologie di carte di dimensioni a cui magari la stampa è destinata ma anche per il web e non solo nel web ci sono criteri diversi un conto che la foto finisce nel proprio sito e un conto che finisce nei social network e quale social network perché ogni social network ha parametri diversi per accettare le immagini e renderle veramente belle quando le visualizza ci sono delle regole spesso mi viene chiesto ma perché le tue immagini vedo sempre benissime in tutti i social network una nidietà mostruosa invece a me non viene ci sono regole diverse a seconda del social network quindi serve consapevolezza come in tutte le cose quindi se vedete fino a questo momento non abbiamo quasi parlato di stampa questo flusso di lavoro sarebbe ideale comunque per tutti anche per chi non stampa infine ultimo punto ovviamente la stampa in un lavoro fotografico autoriale viene data massima attenzione e cura alla scelta di tutti i materiali alla scelta dello stampatore alla scelta delle tecnologie utilizzate questo è un flusso fotografico autoriale un'idea un esempio ovviamente non voglio erigermi a portatrice di salvezza nel mondo non ho il santo grale in mano ma lavorando da tantissimi anni con tantissimi autori a livello mondiale famosissimi e tutto posso dire che questo in qualche modo è un ciclo che è ricorrente ci sono artisti che hanno un approccio diverso ci mancherebbe ci sono persone che impostano la propria produzione in un modo diverso ma questo è un po' qualcosa in cui penso che si ritrovano in tanti ecco ovviamente la selezione l'abbiamo parlato e il confronto sono fortemente collegati lo scatto e la post produzione sono fortemente collegate perché? perché la qualità della stampa è direttamente correlata alla qualità del file non possiamo prenderci in giro non possiamo prenderci in giro se un file è scattato male ed è post prodotto peggio la stampa non potrà essere buona perché le stampanti nella stampa digitale si chiamano default device significa che fanno quello che gli dici in poche parole quindi se il pixel è brutto sbagliato e non è fatto come deve quelli restituiscono una cosa così come il bello appunto che non aggiungono difetti cioè la restituiscono come se è bella bellissima se è brutta bruttissima ma pensate che se la stampa non fosse fine art oltre ad essere brutto il file ci si aggiungerebbero altre ulteriori problematiche quindi non è vorrei evitare che la gente pensasse che per stampare fine art serve un file ancora perché altrimenti evidenza difetti fine art non evidenza difetti anzi in realtà evita che se ne aggiungano di difetti sicuramente se un file è post prodotto bene è il modo in cui valorizzarlo al meglio questo sì ora come si capisce nella fotografia fine art fotografia fine art non si parla più di fotografia ma si parla di vere e proprie opere d'arte no? cioè non si parla più di fotografie volevo scrivere ma di vere e proprie opere d'arte però facciamo un approfondimento tecnico abbiamo detto che la parola fine art appunto indica un manufatto visione artistica tecnica artigianale no? questo l'abbiamo detto prima però se da un punto di vista possiamo dire che gli aspetti artistici possono rimanere piuttosto liquidi opinabili non sono nessuno o non voglio esserlo per dire che un'opera è artistica e un'altra non lo è insomma ci sono quintali di letteratura su questo argomento però sento sicuramente potermi esprimere su quello che sono gli aspetti qualitativi tecnici legati al flusso di lavoro senza dubbio i materiali utilizzati per la lavorazione del file della stampa non sono affatto cose opinabili o concetti liquidi non c'è niente di fumoso sono aspetti tecnici assolutamente tangibili quindi i due aspetti tecnici più forti più tecnici più che oltre che più forti legati alla stampa al fine art in generale sono la stampa sono la gestione del colore e le caratteristiche della stampa la gestione del colore ripeto è fondamentale per chiunque anche se non stampate e non intendo dire non stampate direttamente ma la mandate in un service anche se proprio le foto finiscono sul web è fondamentale per tutti ed è qualcosa di cui prendersi cura dall'inizio alla fine poi ci sono le caratteristiche della stampa queste anche se si rivolgono a chiunque desideri stampi di qualità che durino nel tempo anche se uno non ci sempre necessariamente caravaggio non importa ho una stampa ho una foto meravigliosa del mio ultimo viaggio voglio valorizzarla al meglio e allora utilizzo una stampa fine art me la metto in casa e so che dopo un anno è esattamente dov'è anche se magari è in una condizione per cui ci batte il sole ci sono certe condizioni ma comunque so che durerà immensamente di più di qualunque altra stampa che posso fare ad ordinare parliamo della gestione del colore in modo tecnico ora è comunque una panoramica non me ne vogliate ma abbiamo un'ora di tempo soltanto quindi spero di darvi il più possibile allora ci sono sempre un sacco di dubbi spesso mi si chiede ma cosa è imposto in fase di scatto dentro la fotocamera i monitor tutti i colori diversi ogni monitor mi fa vedere foto diversa come faccio a lavorare una foto in base a quale principio che tanto poi ogni monitor la vede in un modo diverso le finestre poi non ne parliamo qui c'è un gioco c'è un'opzione in più nell'ultima riga qualcuno la noterà il riderà me la mandò qualche tempo fa un allievo le sfumature a volte compaiono così a volte compaiono così questo è il famoso bending di cui parlavamo prima una delle forme del bending per non parlare poi di quando proviamo a stampare tutti i colori sono completamente diversi questo hanno fatto di notaro non l'ho messa nei credits mi scuso quindi problemi a non finire tutti questi problemi riguardano la gestione del colore quindi ci tocca direttamente non è qualcosa che riguarda gli altri un aneddoto allora anni fa mi trovavo a Milano per il photoshow allo stand Epson e arrivò un tipo con un file terribile un file brutto scuro tutto giallo lo diede a uno dei tecnici che era sulla stand e gli chiese ma mi lo stampi per favore voglio vedere la qualità di queste stampanti quando il tecnico apre il file disse wow sei sicuro che devo stamparti questa foto perché era piuttosto perplasso il file era terribile ovviamente si stampa un po' in modo terribile quindi tutto scuro tutto giallo e il tipo molto perplesso disse ma che cavolo queste stampanti non funzionano bene perché io vi do un file brutto mi ridate un file brutto io aspetto che le stampanti che costano così tanto mi ridiano un file meraviglioso ora la gestione del colore che deriva dall'inglese color management non ha a che fare con la correzione del colore non c'è tra poco niente anzi si usa proprio per il contrario si fa in modo si usa innanzitutto sia per il colore sia per il bianco e nero anche se si chiama gestione del colore si fa proprio per il contrario quindi si fa per fare in modo che i colori si mantengano fedeli prevedibili ripetibili nell'intero flusso di lavoro sulle immagini dall'inizio alla fine quindi se il file è brutto viene stampato brutto esattamente com'è questo viene questo è necessario perché di tutti i dispositivi che l'uomo ha per riprodurre i colori riprodurli visualizzarli manipolarli stamparli non c'è nessuno che riproduce i colori nello stesso modo quindi la gestione del colore è proprio quella scienza che ci permette di fare in modo che con un intervento attivo noi riusciamo a far comunicare questi dispositivi tra di loro in modo che vedano e riproducano i colori tutti allo stesso modo possiamo dire con un'approssimazione in realtà identico non sarà mai ma percettivamente lo è la gestione del colore non è una cosa costosa né difficile richiede soltanto tra virgolette un po' di competenze per gestire correttamente i profili di colore che sono proprio lo strumento che si usa per gestire il colore e poche attrezzature specifiche che sono essenziali per fare gestione del colore allora principi di base della gestione del colore quindi riguardano lo scatto la post produzione e la stampa riguardano competenze e riguardano attrezzature quindi scatto allora in fase di scatto bisogna controllare l'impostazione della fotocamera non si scatta a caso si impostano alcune cose e si non solo tempo di aframe e iso intendo dire ci sono miliardi di meno e vanno controllati si utilizza il coro checker possibilmente non è qualcosa che si usa solo per la riproduzione delle opere d'arte o solo nel mondo della moda si può usare anche in ambito naturalistico matrimonio vi facilita tantissimo la vita e velocizza tantissimo il flusso di lavoro post produzione si devono controllare sempre e personalizzare tutte le impostazioni relative al colore in qualsiasi software utilizziamo non è qualcosa che riguarda il cursore cioè io muovo il bilanciamento del bianco non parliamo di correzione del colore parliamo delle impostazioni che spesso stanno in impostazioni relative a impostazioni colore preferenze concettualmente sono da quelle parti dove andiamo proprio a impostare il software il modo in cui si comporta il software non la variazione dei colori della singola foto che abbiamo sotto gli occhi in quel momento poi in post produzione bisogna profilare il monitor o comunque usare i monitor calibrati sono due aspetti leggermente diversi ma è la stessa cosa il fine è lo stesso la stampa bisogna preparare gli esecutivi quindi l'ho detto usando profili più possibili specifici questo riguarda le competenze che dobbiamo avere poi ci sono delle attrezzature minime ma proprio minime di cui dotarsi durano parecchio quindi vale la pena procurarsene il color checker che serve appunto per fare lo scatto con il color checker su questo c'è un webinar specifico magari se rimaniamo in contatto poi vi darò altri contenuti più approfonditi per sviluppare meglio tanti argomenti che oggi sono costretta a toccare un po' più velocemente poi post produzione servono un monitor di buona qualità e bisogna calibrare il monitor per forza con un calibratore che può essere interno al monitor o esterno al monitor ma comunque va calibrato siccome quasi tutti abbiamo un monitor desktop di qualità e poi anche un portatile un calibratore bisogna comprarlo comunque perché anche se abbiamo un monitor di fascia altissima autocalibrante e tutto il resto tanto comunque ci serve il calibratore per il portatile per esempio ogni monitor può essere calibrato e dobbiamo farlo altrimenti ci complichiamo solo la vita stampa la stampante deve essere in buono stato ben manutenuta deve essere idonea deve avere i profili colore ad hoc deve insomma devono essere stati creati dei profili ad hoc color ad hoc che vanno in pratica a creare una combinazione unica di stampante che viene utilizzata e carta che viene utilizzata perché il profilo non fa altro che in qualche modo incorporare le caratteristiche con le quali una stampa viene rappresentata su una specifica stampante con una specifica carta questo è importante perché sappiamo che la stessa foto stampata stampata con la stessa carta su stampanti diverse da colori diversi oppure stampata sulla stessa stampante ma con carte diverse da colori diversi un effetto diverso quindi in qualche modo servono i profili il rip l'ho messo tra parentesi perché devo dire che un tempo era fondamentale oggi non più quindi anche qui ci sarebbe tanto da dire ma insomma ok ora se non ti senti affatto sicuro su questi argomenti da cosa partire allora vado a descrivere il mio flusso di lavoro per la gestione del colore quindi parto da raw ho sempre il formato raw utilizzo il color checker sempre utilizzo il color checker passport di solito poi utilizzo monitor calibrato con l'i1 studio in questo caso mi preoccupo sempre dell'impostazione dei profili colore dei software di solito uso Adobe 98 o Profoto sempre rigorosamente a 16 bit per la lavorazione dell'immagine però attenzione se non sapete niente di tutti questi argomenti che stiamo affrontando in questo momento relativo alla gestione del colore consiglio di lavorare per ora per ora prima che vengano calmate queste lacune in sRGB che è limitato ma è più adatto a persone inesperte sulla gestione del colore altrimenti andate a usare magari spazi di lavoro molto ampi tipo Adobe 98 Profoto così ma poi non si sanno gestire e vengono delle stampe orribili ancora peggiori di quello che si possa immaginare quindi il mio consiglio è questo vanno prima studiati questi argomenti e poi preparo gli esecutivi diversi per l'output a seconda di dove vanno a finire le immagini e ve l'ho detto insomma vedete piccole attrezzature ma accorgimenti importanti preparazione dell'esecutivo finale allora c'è vi dico due parole in più insomma sulla preparazione finale dell'esecutivo va di solito fatta adattando il file alla dimensione finale quindi un conto se la foto viene stampata molto piccola molto grande quando si prepara l'esecutivo bisogna applicare la maschera di contrasto di solito perché in qualche modo è un'ottimizzazione della resa della nitidezza di un'immagine andrebbe applicata sempre magari in alcuni casi molto lieve in alcuni casi più forte però è un passaggio che è importante si fanno delle valutazioni sulla grana perché a volte in qualche modo può addirittura essere aggiunta se il file è stato scattato così bene o così male dipende e poi si fa un'anteprima di stampa monitor per valutare anche l'eventuale conversione nel profilo che è di stampa che permette di vedere l'anteprima di stampa monitor permette di vedere in un monitor calibrato prima di andare in stampa l'effetto che avrà quella foto sulla stampa finale considerate che questi sono accorgimenti essenziali per la preparazione in un esecutivo prima di andare in stampa si fanno sempre si devono fare non è che si manda il file a casaccio per la realizzazione di una stampa finale si fanno delle prove di stampa di solito si fa una stampa di tutto il file piccolino sulla carta finale e un dettaglio come vedete nella foto cioè un dettaglio viene stampato uno a uno rispetto alla misura finale si firmano le opere si numerano se serve se è una tiratura limitata si fa il finissaggio quindi cornice vetri e l'imballo con grande cura per il trasporto queste sono accortezze fondamentali per arrivare poi a una stampa fine art fatta per bene ora caratteristiche della stampa stanno per finire i minuti ho corso come una pazza ma mi mancano degli argomenti spero che sia legittimo andare avanti cinque minuti in più fatemi fare una domanda a Dave can I take five minutes more for the presentation I hope so I need five minutes more so yes no problem no problem go on carry on ok 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 thank you ok la stampa in generale le tecnologie usate per la stampa in generale sono possiamo dire quattro ce ne sono di più ovviamente ma le più diffuse sono non parliamo di fine art adesso parliamo in generale quindi macchine da stampa industriali quando si dice vado in tipografia per capirci stampe a toner si usano anche negli uffici insomma così stampe a getto in inchiostro che possono essere da scrivania o per grandi formati oppure la stampa chimica su carta fotosensibile queste sono diciamo le tipologie di stampa più diffuse ce ne sono tante altre ma queste sono le più diffuse quella chimica su carta fotosensibile si può fare sia proprio tutta in analogico sia partendo da un file digitale ormai da qualche anno queste sono le tecnologie di stampa sapete la stampa chimica ha delle caratteristiche distintive quindi per essere deve essere una stampa chimica fine art per essere fine art vanno usate accortezze speciali e vanno usate delle carte speciali per la carta fine art parliamo di chimica ancora una volta quindi carta fotosensibile allora per la stampa si usa una stampa manuale oppure può essere anche industrializzata le accortezze riguardano risciacquo fissaggio fissativo viraggio fissativo smaltatura delle accortezze che in qualche modo fanno durare la stampa fatta in camera oscura per esempio a lungo nel tempo non è che perché una stampa è fatta in camera oscura allora dura nel tempo servono delle accortezze e poi le carte quindi di solito per esempio le carte varitate no ora ovviamente si aggiunge la presentazione la archiviazione la cura dello stampatore che sono componenti fondamentali per fare in modo che anche una stampa chimica avvenga nel migliore dei modi ora nella stampa chimica su carta fotosensibile non ci sono delle garanzie ufficiali di solito la garanzia è quella personale dello stampatore che ti va in qualche modo a promettere che in realtà quello che tu hai fatto che il procedimento che lui ha seguito risponde ai requisiti ad alcuni o a tutti dei requisiti indicati nella slide precedente per quanto riguarda invece la stampa digitale fine art ci sono sempre tre caratteristiche distintive ma è diverso è più è più codificabile in qualche modo è più ripetibile quindi ancora una volta abbiamo a che fare con tecnologie per la stampa fine art inchiostri per i fine art specifici e carte per la stampa digitale fine art specifici quindi per la stampa fine art di solito ci si riferisce alle stampanti aggetto di inchiostro gicle vengono chiamate sono un particolare tipo di stampa anti-aggetto di inchiostro non sono tutte ma che sono adatte alla resta fotografica fine art poi ci sono gli inchiostri ce ne sono di tante tipologie però per il fine art è importante che siano inchiostri originali e con una durata certificata per quanto riguarda le carte le carte utilizzate per il fine art sono per lo più le carte cotone che sono le più pregiate ci sono anche altri possono essere anche composte di altri materiali naturali però soprattutto il cotone oppure quelle un po' meno pregiate al facello rosa ancora una volta ovviamente importantissima la cura dello stampatore le competenze che ha e la presentazione nell'archiviazione tutte queste tre caratteristiche ma anche le due messe in basso a destra sono fondamentali per ottenere una stampa digitale fine art quindi in questo caso stiamo parlando ho la foto non per forza l'opera d'arte ho una foto bella dell'ultimo viaggio che ho fatto voglio stamparla bene bene devo assicurarmi che questi tre requisiti vengano assolutamente rispettati non posso prescindere da questi ora le garanzie sulla stampa digitale fine art sono codificate quindi abbiamo l'ISO 9706 che è lo standard per la carta permanente poi c'è l'ISO 11108 che è per l'archiviazione e conservazione ancora più standard ancora più rigidi c'è la certificazione PAT che è un'altra certificazione ci sono i test di durata eseguiti dal Williams Imaging Research che è un istituto che fa test comparativi tra varie carte stampanti e li pubblica quindi facendo dei test accelerati che stimolano il modo accelerato l'esposizione alla luce la temperatura l'umidità riescono a dire quanto quella stampa durerà nel tempo oltre ovviamente alle garanzie singole delle case produttrici sulla carta l'inchiostra della stampante però le ultime garanzie lasciano un po' il tempo che trovano perché voi potete anche utilizzare una carta meravigliosa con la stampata dell'ufficio ovviamente non avrà una resa nel tempo la carta sì ma l'immagine impressa no quindi è importante che si capisca che quei tre elementi di cui ho parlato che è stampanti inchiostra e carta duettino tutti insieme non possono duettare se sono ma ci siamo capiti inoltre ci sono i laboratori certificati per esempio Canzon ha i suoi di laboratori certificati che sono ovviamente garanzia ulteriore che il processo segue delle regole fatte bene vediamo un esempio di tipo di carta giusto per cioè la Canzon Infinity Edition è Ging Reg per dire che ha una grana molto fine offre un punto di bianco molto elevato tra i più elevati sul mercato ed è ottenuta tutta senza nessun azzurrante ottico senza sbiancanti tutte le carte Canzon rispondono a questo requisito sono requisiti da controllare quando quando comprate una carta quindi l'uso è per stampa artistica o fotografia di solito dovreste leggere nelle istruzioni questo sono carte fatte con 100% di cotone di solito sono conforme a delle normative dichiarate quindi nella confezione c'è scritto ISO tal detali William Research Gigi Graffi Epson se è compatibile e certificato quindi queste sono un po' le caratteristiche che dobbiamo andare a ricercare quando scegliamo una carta tutte le carte Canzon sono fine art tutte anche se le carte infiniti sono le carte che permettono una resa fotografica non solo tra le carte infiniti ci sono quelle di qualità Miosium che permettono una ulteriore maggiore durata nel tempo perché alcune tipo la Glossi o altre hanno una componente che non è solo di pasta di fibre naturali e quindi garantisce una meno durata nel tempo però diciamo tutte tranne tre sono assolutamente altissima durata e garantite per dei tempi lunghissimi tutte le carte fine art hanno questa particolare spalmatura più o meno importante sopra che ha un trattamento che permette di rendere la carta ideale ad accogliere inchiostri per una stampa in alta risoluzione e tutte le carte Canzon sempre vanno bene sia per il colore sia per il bianco e il nero lo sottolineo perché mi capita spesso che addirittura i stampatori stessi dicono questa per il bianco e il nero questa per il colore no tutte le carte Canzon infine tutte possono essere usate sia per il colore sia per il bianco e nero che è una grandissima libertà permette tanta sperimentazione ora il titolo è sbagliato scusate tutte le carte Canzon e tutte le carte in generale permettono di avere cioè hanno queste caratteristiche la pasta che è il materiale con il quale è composto questa spalmatura superficiale che è una sorta di rifinitura finale che è come uno smalto che viene messo sopra la superficie la trama che può essere più o meno evidente accentuata la presenza o meno di eventuali agenti chimici e le carte Canzon non ce li hanno e abbiamo detto che sono quelli che creano maggiore danno e rovinano l'immagine del tempo punto di bianco che cambia perché alcune carte sono più gialle alcune sono più bianche dipende vanno scelte e la grammatura quindi alcune sono più a cartoncino potremmo dire altre sono molto più leggere quello dipende dal nostro stile dall'impatto che vogliamo avere ora cambiando una carta si può cambiare molto il significato di un'opera quindi tutti quei fattori che abbiamo appena visto devono essere in qualche modo sfruttati per capire dove portare in che direzione portare un'opera spesso conviene anche fare delle prove provare la stessa foto su diverse carte e vedere cosa succede ci sono anche dei kit che vengono venduti da Canzon dove si possono comprare diversi tipi di carte in un colpo solo per fare appunto delle prove quindi abbiamo finito questi sono gli argomenti che abbiamo visto oggi ho corso da matti ma so che ve lo potete riascoltare miliardi di volte quindi mi scuso se ho corso ho parlato tantissimo ma volevo assolutamente darvi questi contenuti era molto difficile rinunciarci spero che è stato utile e illuminante ora abbiamo una parte di domande quindi rimanete e c'è una sorpresa quindi vi prego rimanete ovviamente rimaniamo in contatto quindi ora parliamo delle domande let's let's answer the questions we have few time but Alexander can you send me some questions yes I'm sending some questions just now ok great thank you ok li sto vedendo nella chat allora qual è una delle domande è qual è la carta migliore Canzon per una stampa ottimale del bianco e nero oh mamma ragazzi veramente tutte ma non è di parte quello che sto dicendo è che danno sensazioni diverse quindi tutte le carte Canzon possono essere utilizzate per il colore per il bianco e nero qual è la migliore quella che è più in linea con il tono dell'opera che dobbiamo scattare cioè che abbiamo scattato lo stile che vogliamo dare alcune sono più luminose alcune sono completamente opache completamente non ve lo so dire io adoro la rag photographic la adoro è completamente opaca è finissima è una sontuosa veramente quella mi piace tantissimo un'altra che mi piace tantissimo è la sono la serie Baritate ce ne sono varie Baritate belle bellissime della Canzon vanno provate sarebbe ingusto che vi dicessi qualcosa perché in realtà fanno un effetto totalmente diverso le un'e con le altre che è sciocco imporvi il mio punto di vista vado a guardare la chat così vedo quale altri milioni di domande avete mandato vi dico anche che potete tranquillamente scrivermi su questi social se non riesco adesso a rispondere a tutte le domande insomma nell'arco di questa settimana e della prossima risponderà a tutti i promessori ok allora qualcuno chiede informazioni sul corso del color checker si chiama profili colore quel corso lì qualcuno chiede informazioni su che tipo di stampante consigli per cominciare a stampare fine art allora le stampanti fine art quindi dovete rivolgervi alle stampanti Canon Epson OHP sono queste le aziende che producono stampanti diciamo fine art per stampe digitali ok quindi indirizzatevi a questi produttori e ci sono prodotti di partenza io credo che il prezzo base minimo per una stampante che riesca a rispondere a questi standard se non erro è intorno a 500 euro spero di non essere troppo lontana nel dichiarare questo non ho controllato i prezzi ultimamente ma insomma non è un investimento da spararsi insomma quindi è sostenibile è sostenibile assolutamente andate su la differenza di prezzo enorme tra le stampanti tra una stampante e l'altra è data dal massimo formato che riesce a stampare tantissimo quindi se il formato è più piccolo costa meno la stampante ma costeranno più gli inchiostri se invece la stampante è molto grande quindi riesce a fare anche una stampa di un metro e oltre costa più la stampante ma costano meno le stampe quindi lì dobbiamo un po' regolarci anche su se ne facciamo uno su personale è logico che non possiamo prendere una cosa enorme anche perché ci occuperebbe metri cubi dentro le nostre abitazioni però o studi però ecco ci sono veramente di tanti prezzi ha un'altra domanda si dovrebbe lavorare in RGB o in GMK per la stampa fine art grande domanda ringrazio di guardare che me l'ha fatta allora si deve lavorare in RGB in RGB l'ho detto nella slide c'è scritto che lavoro in Adobe 98 o in Profoto bisogna lavorare in RGB un'immagine il CMK è una conversione che a volte va fatta a volte no ma va fatta come ultima cosa il più tardi possibile e tra l'altro possibilmente non una conversione a CMK con il casacciometro ma possibilmente in CMK con il profilo specifico dello stampatore la conversione in un mondo piccolo come quello dei colori riproducibili dal CMYK vanno necessariamente usate come conversioni più tardi possibili più tardi possibili assoluto è un delitto avere un file in RGB e convertirlo in CMK tanto più che poi spesso quel file viene utilizzato anche in RGB per esempio pubblicato sul web quindi noi avremo sempre una matrice ben lavorata in Adobe RGB Profoto 16 bit e poi da quella ricaveremo i vari esecutivi che servono stop io ho risposto per ora altre domande tutte le altre fatemi le via mail via social questa settimana sarà un po' lenta a rispondere perché ho un evento Fuji sabato a Milano domani sono Wikipedia sempre a Milano tanti appuntamenti ma insomma fatemi le domande vi risponderò andate su Facebook ora la grande sorpresa che c'è oggi che è pazzesca vi prego di non farvela scappare è questa è una cosa pazzesca non è mai successa finora almeno a mia memoria avete presente gli abbonamenti Adobe mensili un tot al mese per utilizzare Photoshop e Lightroom in abbonamento bene c'è un'offerta ora per cui il tipo di abbonamento tra l'altro quello più costoso che include anche l'archivio sul Creative Cloud viene dato incluso gratuitamente acquistando uno di questi quattro prodotti X-Rite vi prego non fatevela scappare perché non ho scritto insomma fate velocemente il conto di quanti soldi si tratta 24 euro e passa al mese gratuiti per un anno inclusi in un prodotto che costa poco più della cifra dell'abbonamento è come pagarlo la metà quasi non solo fermi tutti non solo non dovete farvela scappare per questa ragione ma c'è anche un'ulteriore pazzesca sorpresa c'è addirittura l'ulteriore sconto X-Rite riservato ai miei allievi e voi oggi lo siete inserendo la parola Santoni nel questo codice quando siete nel carrello e state acquistando il prodotto all'interno del sito x-rite foto.eu quindi non in altri siti in quel sito lì inserendo questo l'ulteriore sconto del 25% cioè spero che avete capito che non si trattava di vendere pentole o enciclopedie è stata una vera lezione anche se rapida vi prometto che approfondiremo ulteriormente gli argomenti ve lo prometto spero che è stato spero che ognuno di voi ha portato a casa qualcosa sicuramente chi era già più avanti nel fine art avrà avuto delle conferme degli arricchimenti chi non ne sapeva niente probabilmente si è sentito oh mio dio veramente invaso di informazioni ma ve lo potrete riguardare tutte le volte che volete scrivetemi e non vi fate scappare questa opportunità perché comunque abbiamo parlato di quanto è importante la gestione del colore è la base per tutti non solo per chi si occupa di fine art quindi è un'occasione pazzesca non l'ho mai vista in tutti questi anni lavorando con X-Rite quindi penso che sia un ottimo momento per approfittarne basta abbiamo finito it's done Alexandra sorry if I was sorry for the delay scusate tutti per il ritardo ma insomma vi ha regalato un quarto di contenuti in più spero che ne sia valso la pena it's all right I just hope everyone enjoyed it and hopefully we'll have another webinar for you guys soon thank you all thank you thank you Alexandra thank you Dave bye ciao